Esce solo, che è giunta ai giorni nostri tramandata oralmente. Nel corso degli anni è stata più forte rimaneggiata. Esce, esce solo, scagnia la maragona, scagnia la medagina, cavava quattro cieli. Mas, mas, e manda un cieli a qui, che scende a qui, e scena con l'anus, con spade e con la cieli accompagnata. Sulla porta di un'antica locanda napoletana, si chiamava la Taverna del Cerrito. E questa taverna, che era famosissima nel 600, lo diventa ancora di più perché ci fu accoltemato Caravaggio. Per il mancino della vita appena, da morto quando è prima non fa bene. Per il mancino della vita appena, da morto quando è prima non fa bene. C'era scritto questo pensiero che può benissimo essere un pensiero picoreo dell'antica Grecia. Carperie, magna, bimba, capose qui, e arriva a stare da sì, senza lì, serrata al mondo. Senza sentire la gente che aderisce la pace. Io dico, senza sentire la mia vita, perché la vena consigliata. Senza sentire la stupenda. State facendo il cuocchio e il figlio, rite, prima stavate, dite, queste siglate, ma vabbè, insomma. Una festa da mattina, una mattina per il bimba bene, e arriva a stare da sì, senza lì, serrata al mondo. Grazie. Allora.